Purtroppo, purtroppo sì, purtroppo è accaduto quello che temevo, purtroppo è accaduto quello che molti di voi temevano, in realtà c'è anche qualcuno contento, assolutamente, ma la maggior parte dei tifosi di ventini in questo momento è quasi a lutto, lutto sportivo, passatemi il termine, perché veramente di fare per la Juventus, signori, è come vivere su una montagna russa costante. Si passa da il 4-0 all'Atletico e quindi la paura e la preoccupazione, ma prima c'era la gioia per gli acquisti di Pogba, di Maria e Bremer. Si passa dalla gioia, ancora una volta, per aver vinto 3-0 con il Sassuolo, all'ansia e la preoccupazione per le condizioni di Maria. Si passa dal tirare parzialmente un sospiro di sollievo, salvo poi guardare il calendario e capire che se verrà rivalutato 13 giorni è un problema perché poi abbiamo una marea di gare tutte attaccate e che quindi forse addirittura rientra con Pogba, non lo sappiamo, non abbiamo idea, però sicuramente Sampdoria la salta, molto probabilmente Roma, ma ne ho parlato anche nel video di ieri. E' invito ad andarvelo a vedere perché non voglio rifare tutto il discorso e si arriva all'ora, alle 6-7 di sera e si scopre che Andrea Ravio al Manchester United potrebbe saltare. Come l'avete presa questa notizia? Non ho fatto un video ieri sera subito perché ne avevo già pubblicati 3 nella giornata ieri ed erano andati molto bene, di questo vi ringrazio. Non aveva senso pubblicarne un quarto, tanto ne avremmo parlato tranquillamente insieme proprio in questo istante, in questo contenuto. Per ora Ravio a United rischia di saltare. Addirittura le richieste di Ravio sono state definite oscene, oscene, eccessive, troppo alte. Allora, tra Juventus e United non ci sono problemi. Hanno trovato un accordo sulla base di 17-18 milioni, qualcuno dice addirittura più bonus, che potrebbero arrivare a 20, ben venga tutto. Penso che alla Juve non importi, in realtà tanto quella parte fissa lì, che abbia sparato una cifra a caso e che lo United abbia detto di sì. Ve l'immagino è andata così la trattativa per Ravio. Però poi lo United si è arenato proprio perché manca l'accordo tra Adriel e Ravio e lo United. Perché? Perché il ragazzo a quanto pare non è convinto della dimensione United, visto che quest'anno non giocherà la Champions e la partenza del Manchester non è stata mica tanto bella. C'è un mondiale alle porte e forse vorrebbe cercare di preservare la sua figura giocando questo mondiale, non da calciatore United con il rischio magari di affondare la barca United, di vedere affondare la barca United con lui dentro e ritrovarsi delle due svincolato tra un anno. Perché ricordiamolo che il contratto di Ravio scade al 30 giugno 2023 e quindi in questo momento addirittura il ragazzo preferirebbe il rischio, l'ignoto, andare a scadenza di contratto. Poi vediamo che cosa succede, magari ragionando anche sul fatto che i parametri zero magari possono spingere un po' di più sotto quello che è l'atto dello stipendio perché non esiste il cartellino. Ma questo era un ragionamento che andava bene ai tempi del pre-Covid, l'abbiamo visto anche di recente, non è così scontato che poi si aumenterà e di tanto la parte che si porta a casa il calciatore. Che cosa chiede Ravio? Ravio a quanto pare chiede 9 milioni fissi più un ulteriore milione di bonus per arrivare a 10 milioni di euro all'anno suoi e in più la mamma chiede 10 milioni di euro di commissioni. Mamma che è l'agente sta portando avanti la trattativa e sta dettando legge col Manchester United. Abbiamo visto addirittura un rappresentante dell'United in Italia per cercare di sistemare questa trattativa, di chiudere questa trattativa. A quanto pare non c'è sbocco e lo United stesso si è stancato perché dopo aver passato mesi e mesi dietro a Frenkie de Jong e non si è riuscito a trovare l'accordo anche in quel caso, si è passato ad Adriel Ravio e allora magari dato che il mercato chiude tra due settimane avanti un altro Ravio se tu ci dici di no. Ma se salta Ravio e l'United per la Juventus è un disastro. Tra l'altro ricorderete che Ravio è arrivato sia a parametro zero alla Juventus ma era stata riconosciuta una cifra agli agenti e quindi alla madre mi pare di 12-15 milioni di euro. Quindi questa commissione per la madre sembra sempre molto alta. Noi avevamo preso a parametro zero, vi ricordo che avevo fatto un video che si chiama parametro zero ma non troppo. E in questo caso invece addirittura oltre al cartellino ed è un'offerta molto alta per un giocatore in scadenza di 27 anni con uno stipendio molto alto, devo dire la verità perché sui 17-18 milioni di euro ci sono tanti soldini. altri 10, che va praticamente a lievitare il prezzo del cartellino se vogliamo, più uno stipendio fuori dai parametri. E' vero che stiamo parlando della Premier League, è vero che stiamo parlando del Manchester United ma Ravio vuole ulteriormente alzare il suo ingaggio perché attenzione Ravio avrebbe offerto addirittura 8 milioni di euro a Ravio. L'offerta a United è questa, che è leggermente più di quanto percepisce la Juventus, quindi se vogliamo non dovrebbe nemmeno ridursi lo stipendio, ci sarebbe addirittura un piccolissimo aumento di mezzo milione. Alla Juve prende 7 e mezzo netti, che poi i lordi grazie agli trucchi sono diversi ma questi non sono altri discorsi. E quindi Ravio non va a perderci dei soldi, vuole guadagnarne di più, probabilmente perché sta ragionando, dato che non abbiamo idea della durata del contratto, di non perdere nemmeno questi 7 della Juve. Magari aumentando quell'ingaggio dice, bene sono sicuro che anche questi mi li prendo, esattamente come andare a termine del contratto della Juventus in questa stagione e poi firmare un altro contratto sempre a 7. Probabilmente stanno ragionando sotto questo punto di vista, poi io farò un discorso abbastanza populista in questo momento, ma dato che non arriverò mai a guadagnare certe cifre nella mia vita, non capisco a un multimilionario, perché di questo stiamo parlando, dato che negli anni si è portato a casa diversi milioncini di euro, ma non Ravio è in generale, che cosa gli cambia da 8 a 9 più 1? E' vero, mi direte voi, 2 milioni di euro, certo, ma c'è davvero necessità di averli? Cioè nel senso quei 2 milioni di euro cambiano davvero tanto la percezione di questa cosa? Quando si parla di calcio mercato faccio sempre un po' fatica a capirla, proprio perché parliamo di cifre talmente alte che non ha senso, non ha senso ragionare per noi. Però penso se avessi già, che ne so, 10-12 milioni di euro da parte e sapessi di guadagnarne altri 7 quest'anno, davvero avrei bisogno anche di quello in più. Cioè queste cose mi fanno sempre ridere, però vabbè, ognuno sa di casa sua, si fa i conti in tasca da lui. E allora cosa succede tra Juventus e Rabiot? Beh io ve lo dico, basta guardare la cronologia delle partite dell'anno scorso. Per i minuti giocati al primo posto, Matthijs Delit, 3691, alla faccia del discorso alla Juventus non giocavo mai. Wojciech Czesny, secondo posto, 3600 minuti. Terzo posto con 3360 minuti, Adria Rabiot. È stato il terzo giocatore più impiegato della stagione l'anno scorso. Quindi se Rabiot rimane alla Juventus, Rabiot gioca. Cioè c'è poco da girarci intorno, è fuori rosa e allora non gioca in panchina. Finché non torna a Pogba, perlomeno. Cioè c'è Rabiot, Rabiot gioca. L'ha dimostrato Allegri l'anno scorso. Sono contento di questa cosa? No. E lo sapete perché non mi trovo particolare simpatia per il calciatore, non mi piace proprio come calciatore. L'ho detto tante volte, non vedo aggiungere niente all'interno di una partita di pallone. Se non una resistenza straordinaria agli infortuni, è un'immensa capacità fisica. Però non sono le basi su cui la Juventus può decidere di confermare o meno un calciatore. Perché stiamo parlando di tutti gli infortuni, bla bla bla. O Rabiot c'è sempre, ragazzi. Bisognerebbe studiarlo, ecco. Allora dalle due teniamolo, non come calciatore, ma come cavia. Facciamo gli esperimenti su di lui e vediamo perché. Le preparazioni su tutti i calciatori hanno degli effetti negativi, su Rabiot invece no. Vabbè, adesso a parte gli scherzi perché Rabiot non ha nemmeno fatto la tournée estiva quest'anno della Juve. Quindi non ho idea della condizione fisica di Rabiot, che ha saltato la prima giornata per squalifica contro il Sassuolo. Non ha fatto la tournée per il discorso legato alla vaccinazione, si dice, si presuppone. Non ha praticamente mai fatto le amichevoli. Quest'anno quindi ha lavorato meno, sicuramente, rispetto ai compagni. E questa era anche un'altra cosa che secondo me era positiva per la Juventus. Cioè un giocatore che in questo momento poteva essere più indietro rispetto agli altri parte per una cifra alta. Tra l'altro noi abbiamo sempre ragionato, squadre del Rabiot, su un binario. E cioè per quella cifra che prende non ci sta che sia la Juventus come titolare. Perché non ti dà chissà che cosa. Come riservo lottarei volentieri ma allora devi prendere meno. E allora dato che la United sta chiedendo di più per andare a giocare un campionato come la Premier che è di livello superiore, cadrà per sempre questo ragionamento del allora lotterrei come riserva meno. E non penso nemmeno che la Juventus proverà a sottoporvi un rinnovo, ma nel caso credo che Rabiot non lo accetterà mai al rimasso. Non, ripeto, non che mi dispiaccia. Però sai, la possibilità di toglierti un ingaggio pesante già adesso, la possibilità di guadagnare quei soldi che potrebbero essere reinvestiti sul mercato. E attenzione perché ieri su Paredes si muoveva qualcosa, si diceva giocatore che arriverebbe in prestito con diritto di riscatto. E questa sarebbe un'ottima notizia. Perché non sei obbligato a comprare il calciatore, lo valuti, vedi gli infortuni come vanno, vedi come reagisce se è il giocatore che serve a te. E nel frattempo, l'anno dopo, magari ti rientra Rovella dal prestito. Perché adesso c'è tutto da rimettere in discussione. Nel senso, parte Rovella allora? Perché magari se non arriva Paredes non parte Rovella, parte Artur e basta. Ma Artur parte? Artur, Rabiot, Alexandro sono così convinti di giocarsi le loro carte? Anche perché si sta parlando di questo terzino sinistro che potrebbe entrare. E ribadisco, finché non c'è Pogba, Rabiot gioca. Però quando poi torna Pogba, allora magari no. E allora bisogna valutare anche le condizioni fisiche di Pogba. E' tutto un sé, ragazzi. Mi dispiace, è tutto un sé, ma il mercato purtroppo ci impone di volare con la fantasia. Io, che ero già entrato nel mood del campionato, e cioè ci sono questi e allora gioco in questi. No, invece col mercato vedi... E se arriva Depay, entro lunedì, gioca Depay. Cioè, se non parte Rabiot, non arriva Paredes. Cioè, è tutto un sé. È completamente tutto un sé. Non mi piace. Non mi piace, ma non mi piacerà mai. Complica troppo le cose il mercato aperto. Con il campionato, di solito erano un paio di giornate. Addirittura quest'anno sono quattro. E Rabiot potrebbe semplicemente accettare sti soldini. E basta. E salutare, dato che il legame con la Juve non è mai stato così profondo. Le stagioni alla Juve non sono state così incredibili. E comunque tutti i calciatori sognano di andare a giocare in Premier League, in un club importante come il Manchester United. Perché Rabiot no? Cioè, viviamo in un'epoca davvero in cui il Manchester United deve chiedere in ginocchio, per favore, a dire a Rabiot di andare a giocare da loro. Va bene che lo United è in crisi, l'abbiamo visto, ma sarà così per tutto l'anno? Ma io mi immagino di no. Credo che riuscirà a un certo punto a risalire la china. In ogni modo vediamo, ragazzi, perché qualcuno è più pessimista e dice che addirittura la trattativa è saltata. Ma completamente saltata, lo United si è rotto e chi invece vede un tentativo da parte dell'United di mettere pressione a Rabiot e quindi dirgli, oh, muoversi, avanti, perché sennò cambiamo obiettivo. Fatemi sapere un po' come la pensate qui sotto nei commenti. Vi ringrazio per la visione del video. Come sempre vi ricordo di lasciare appunto il vostro commento o la vostra opinione qui sotto, mantenendo sempre la gentilezza e il rispetto dell'educazione. che sono cose che ci tengo sempre, perché le opinioni sono tutte ben accette, ma la forma deve essere di un certo tipo, perché sennò si fanno semplicemente le figure da maleducati. Ecco, e sono cose che non mi piacciono nemmeno su internet, diciamo così. E un mi piace al video, se il contenuto è stato di vostro gradimento, e un pronostico, fatemi un pronostico sulla vicenda da Bio perché inizio ad essere abbastanza pessimista è negativo e inizio a credere davvero che ci toccherà tenercelo un altro anno e che magari pure Artur rimarrà alla Juve e che quindi mercato in entrata lì bloccato, magari uscirà, che ne so, davvero Rovella, non lo so. La Juventus si ritroverà con una mancanza a livello qualitativo davanti alla difesa, con Locatelli obbligato a giocare ancora in quella posizione lì. Però ribadisco, la priorità secondo me oggi è un attaccante perché davanti con gli infortuni di Maria siamo numericamente pochi.